L'Istituto Auxologico Italiano a Milano ha ospitato la presentazione dei campionati italiani assoluti 2022 di Scherma, in programma dal 31 maggio al 5 giugno a Courmayer. La sede del battesimo ufficiale della Kermes è stata scelta nel solco della comune progettualità intrapreso tra la Federscherma e l'Istituto Auxologico, che fornerà una preziosa collaborazione per i simposi d'approfondimento di natura scientifica organizzati a Courmayer nell'ambito dell'evento sportivo. Assegniamo i titoli italiani e quindi avremo 411 atleti nell'individuale, nelle sei armi e poi avremo le squadre, 72 atleti nelle squadre. È l'evento più importante dell'anno ma intorno a questo evento ci sono una serie di altri eventi che abbiamo organizzato per gli accompagnatori e anche per non appassionati di Scherma, che si appassioneranno alla Scherma. E subito dopo la Kermes dei campionati italiani assoluti, che si svolgeranno per la prima volta in Valle d'Aosta, avremo i campionati italiani Master dal 9 al 12 giugno. Courmayer è pronta, il palazzetto lo stiamo predisponendo ad hoc per la Scherma, un palazzetto multisport dove l'ultima grande manifestazione è stata il torneo WTA di tennis 2,50 di novembre e adesso lo trasformiamo per la Scherma. Siamo pronti, gli ultimi dettagli in questi giorni e poi dal 31 saremo lì con tutti gli atleti più importanti al cospetto del Monte Bianco.